Siamo lavoratrici e lavoratori Siamo lavoratori dello spettacolo, cinema, teatro, danza, artisti, tecnici, operatori, stabili, precari e integratori. Occupare in italiano ha diversi significati. Uno di questi significati è prendersi cura. E allora in questo senso forse il passaggio da un'occupazione al senso proprio di un bene comune può essere proprio preso dal significato della parola. Perché un bene comune esiste nel momento in cui c'è una comunità o delle persone che si prendono cura con passione. Il teatro Valle in questo momento, il teatro Valle occupato, la futura fondazione, ha in animo la vocazione di grande apertura. L'apertura non soltanto legata ai lavoratori dello spettacolo, ma sapendo bene qual è la funzione sociale di un teatro, l'apertura alla cittadinanza, ridare agli altri quello di cui noi avevamo bisogno. La politica e la cultura sono indivisibili. E questo progetto dell'occupazione di un teatro storico, del più antico teatro di Roma, di uno dei più prestigiosi teatri italiani, è stato un simbolo fondamentale in Italia di un rise up del popolo, dei cittadini, per riprendere in mano la cultura e la politica. Com'è fresco il vento che respiro, camminando sopra un filo, sospeso nell'aria, in questa posizione precaria, assomiglio più alla vita e alla mia felicità. Mi devi aiutare a fare il lavoro sul personaggio. Siamo nella stessa strada Sotto le mie scarpe ci sono le spine, mentre tu calpesti pietre di diamanti Sono un passo indietro e stringo serpenti fra i denti Più teatri ci sono e meglio è, nel mondo ci sono tanti re ma un Michelangelo solo. Ho inlossato l'abito migliore, tra i capelli ho messo un fiore, e il profumo era nell'aria, ma i miei sforzi sono stati vani, i suoi occhi erano allontani. Credo che qua dentro ci sia davvero qualcosa di molto rivoluzionario e di molto attuale rispetto ai tempi, perché si dicono più cose diverse con questa frase. La prima fondamentale è il libero accesso ai saperi, alla conoscenza, alla produzione di cultura. Questo anche nella modalità più immediata, cioè non dover sempre pagare per poter accedere, usufruire e godere della cultura. La nostra credenza è che il valuto economico è una piccola dolce del tutto valuto che è prodotto nella cultura, che è ovviamente un valuto culturale, un valuto sociale, che pura attrazione, infermigliamentsi e creatiYouTube, e riforninti sociali. La cultura fa pensieri e gli pensieri cambiano cose. Partire dall'idea di cultura come motore di trasformazione per me significa mettere al centro la potenza dell'immaginazione umana che prima di tutto è anche la capacità di immaginare mondi diversi e questo è molto legato all'arte e alla cultura perché è un continuo esercizio di immaginazione e quindi ci toglie fuori da quest'incubo che questo sia l'unico mondo possibile. Il comune è probabilmente qualcosa di più ampio che un teatro ma cominciamo da un teatro quindi è importante vedere un ideale, come è concreto nella vita, nella vita quotidiana e poi abbiamo capito che non era un concetto ma era qualcosa che coinvolgiva la nostra vita. Quando abbiamo occupato questo spazio pensavamo di stare tre giorni e questo tempo invece si è aperto perché c'è stata una partecipazione larga anche con una modalità nuova, non abbiamo occupato uno spazio per fare il nostro spazio, non è un'occupazione identitaria ma piuttosto riapre una vorà pubblica, riapre uno spazio pubblico. Le assemblee sono sicuramente uno dei momenti sia più belli dal punto di vista sociale, partecipativo, emotivo di partecipazione qui, sia però dei momenti di fondamentale importanza politica perché effettivamente questo posto in quel momento diventa un bene comune. Tutti quanti iniziano a sentirlo come un pezzo di sé, della propria partecipazione politica collettiva sia alla città sia in generale al paese, all'Italia. L'esperienza del Teatro Valle è qualcosa che vuole anche invitarre le persone a tornare il modo di guardare le cose e di guardare le cose, e di guardare il risultato di essere insieme. Io immagino e spero che sia un teatro bene comune e quindi che pratica la diffusione del potere, dove non c'è una persona che decide di alcune persone e che decidono di altre persone, ma dove i processi sono condivisi. Il futuro è tutto da costruire. Intanto lo desidero aperto sempre di più. Lo desidero sempre più aperto verso l'Europa. Vorrei che da qui a cinque anni esistesse realmente una rete sia di spazi culturali, sia di teatri, ma semplicemente di luoghi in qualche modo auto-organizzati, di autodeterminazione dei cittadini. Che sia un luogo veramente in continua metamorfosi, in continua trasformazione, che si modifichi, che cambi, che quasi non ce lo possiamo immaginare ora come sarà tra cinque anni. Come è fresco il vento che respiro, camminando sopra un filo, sospeso nell'aria. In questa posizione precaria assomiglio più alla vita e alla mia felicità.